Si è conclusa con oltre due ore di confronto con il presidente Toma la giornata molisana del senatore di Forza Italia Claudio Lotito. In mattinata l'incontro col presidente della provincia di Sernia e sindaco di Venafra Alfredo Ricci col quale è stato affrontato il tema del Santissimo Rosario. Sul futuro dell'ex nosocomio venafrano Lotito ha assicurato il massimo interessamento affinché possa restare un presidio fondamentale di medicina territoriale. Incontro positivo anche con le rappresentanze sindacali della GAM dalle quali Lotito ha acquisito tutta la documentazione necessaria su una delle questioni più complesse della regione. Allo studio la salvaguardia dei lavoratori, la possibilità di individuare figure imprenditoriali che possano rilanciare la struttura e la possibilità di inserire la questione nel decreto molise. Nel pomeriggio l'incontro con Toma sul tema sanità. Insieme a Lotito anche il senatore della Porta e la deputata Lancellotta. In un clima costruttivo si è convenuto di portare davanti ai ministeri competenti tutte le questioni rimaste aperte. Debito, commissariamento, Balduzzi. Abbiamo fatto un confronto costruttivo alla presenza dei rappresentanti parlamentari del Molise e abbiamo convenuto di superare queste criticità che sono emerse sul territorio e soprattutto per quanto non c'è la sanità. Mi riferisco al problema occupazionale, mi riferisco al POS e soprattutto cercando di ricevere anche quelle che sono le istanze del territorio e trovare delle soluzioni immediate da sottoporre all'attenzione del governo con un apposito provvedimento per rimuovere immediatamente queste criticità. Nei prossimi giorni accadrà che sicuramente la delegazione dei parlamentari avrà contatti con tutti i rappresentanti specie, mi riferisco al Ministro della Sanità e al Ministro dell'Economia per trovare le soluzioni tecniche per risolvere questi problemi. È una proposta il POS e quindi speriamo di apportare tutte quelle correzioni che le istanze del territorio hanno rappresentato. Qui si tratta di rimuovere alcune criticità che sono storiche e che purtroppo si sono trasmesse attraverso gli anni e che non sono state mai affrontate e superate. Ecco noi dobbiamo rimuovere quegli errori di partenza che hanno determinato questa crisi della sanità molisana. Claudio Lotito è stato nominato vicepresidente della Commissione Bilancio e capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze, ruoli che potranno assicurare al Molise una particolare attenzione sul versante economico. Ritengo che la Commissione Bilancio sia uno snodo fondamentale per tutte le attività parlamentari e soprattutto per il ripienimento delle risorse. Quindi ritengo che sia fondamentale avere un presidio all'interno della Commissione che metta in evidenza quelle che sono le necessità effettive e oggettive di questo territorio. Per quello che riguarda la Commissione Finanze, come ricorderete io sono stato individuato come capogruppo della Commissione Finanze, è altrettanto fondamentale perché si va verso un sistema di modifica dell'assetto normativo fiscale per cui andare a individuare alcune strade che sono fondamentali anche per trovare delle agevolazioni di carattere fiscale proprio per il territorio del Molise.